Siete in cerca di un tablet per tutta la famiglia che possa adattarsi anche ai più piccoli? Io ho la soluzione perfetta per voi e ve ne parlo tra poco qui su Tech Princess. Questo è Huawei MediaPad T3, è un tablet da 10 pollici ed è caratterizzato da un design molto elegante. Non fatevi però ingannare dal suo aspetto. MediaPad T3 è infatti realizzato in alluminio nodizzato, lo stesso materiale che usano gli ingegneri aeronautici. Questo lo rende solido e capace di resistere anche alla vitalità dei più piccoli. Se per disgrazia dovesse cadergli di mano state certi che non dovrete correre disperati al centro di assistenza più vicino. L'ottima qualità costruttiva non è però l'unica caratteristica che lo rende adatto ai bambini. Come gli altri prodotti della linea MediaPad, questo T3 integra il Kids Corner. Si tratta di un'interfaccia chiusa ma al contempo completamente controllabile dai genitori. Gli adulti possono infatti decidere quali fotografie mostrare e quali applicazioni rendere disponibili, oltre ovviamente alle due già presenti, una dedicata al disegno e l'altra alla registrazione di suoni. È inoltre possibile decidere quanto tempo i vostri figli possano passare in compagnia di Huawei MediaPad T3 ed indicare intervalli di tempo definiti. Questo permette loro di utilizzarlo in tutta sicurezza anche quando non siete presenti. Ovviamente il fatto che sia a misura di bambino non significa che sia adatto solo ai più piccoli. Il processore Qualcomm che troviamo a bordo e i 2 GB di RAM vi consentono infatti di utilizzare qualunque applicazione. Potete quindi utilizzarlo per redigere dei classici documenti di Word, per creare nuove ricette da sperimentare in cucina o banalmente per giocare. Il display da 9.6 pollici vanta inoltre colori vividi e brillanti così potrete godervi un buon film ovunque e in qualunque momento. Huawei MediaPad T3 integra inoltre una speciale modalità a bassa luce ed è pensato per proteggere la vostra vista. In questo modo sarà possibile utilizzarlo anche di notte senza affaticare i vostri occhi e senza intaccare il vostro sonno. Infine Huawei MediaPad T3 vanta una batteria da 4800 mAh, il che significa che potrete sfruttarlo per ore prima di doverlo attaccare alla corrente. Insomma questo tablet è perfetto sia per gli adulti che per i più piccoli, è resistente, elegante ma soprattutto economico. Lo trovate in tre versioni differenti, quella che ho qui accanto a me è quella da 10 pollici, con connessione 4G ma esiste anche la versione solo wifi. Se poi cercate qualcosa di più piccolo sappiate che esiste anche il modello da 7 pollici. Direi che anche per oggi è tutto, io provo a sbloccare la modalità bambino che i miei genitori hanno impostato per me, voi intanto ricordatevi di visitare il nostro sito www.techprincess.it per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità tecnologiche. Ciao!